ma fatta dai in islanda a girare il video di marco mengoni ti ho voluto bere veramente ciao 10 minuti a piove lo sai che mi ricorda questa cosa molto il sintornato 10 minuti a piove marco mi senti azione marco azione marco è morto vero marco marco ma ti non andare avanti davanti fermati ma 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 Grazie. 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 Ok è partito e azione. Grazie.